Come state meto? Spero come sempre alla grandissima ragazzi eccoci qua con un altro e nuovo video di FIFA 16 Ragazzi a dire la verità vi volevo portare un altro episodio di Porla Primera ma non so perché Da qui a un po' di giorni fa nei server di FUT per fare le stagioni non mi trova una partita Devo stare lì 3 ore per trovare una partita è una cosa allucinante Io sono veramente incavolato con EA perché non si può non si può E vabbè ho detto cosa faccio io voglio portare ancora un po' di FIFA anche se adesso sono veramente preso con Call of Duty Fallout mamma mia un pacco pacco di giochi che sono arrivati nuovi Però ragazzi eccomi qua con un live 2.0 e voglio vincere la Movember Cup Quella che c'è in questo mese non so fino a quando c'è comunque una coppa in cui si vincono 4000 crediti e un pacchetto Euro Premium Sono già arrivato in finale in modo da non farvi aspettare troppo e farvi questo live direttamente in finale Non so se vincerò o se perderò ma io direi basta parlare e andare a cercare la partita Ed eccolo qui il nostro avversario l'abbiamo subito trovato non so perché nella coppa me la trova e nella stagione no Ecco qua l'arbitro frisca quindi iniziamo ragazzi questa live Sto usando la mia Premier League tra l'altro ho acquistato Barclay me l'avete suggerito voi E devo dire che nelle tre partite che ho fatto non diciamo non mi ha fatto pentire di questo nuovo acquisto Sono molto 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 teso perché è un po' di tempo che non giocavo a FIFA Poiché come vi ho detto sono preso con Con Fallout, Call of Duty eccetera eccetera quindi ho lasciato un po' lì da parte Fallout, eh sì Fallout e FIFA Mamma mia mi sto incasinando Però adesso partiamo sulla fascia rientriamo così lo vede lì Oh no pensavo che passasse quella palla in mezzo per Fellaini Ok la ripartenza No 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 ma chi è quello Mamma mia così si fa No Chiudilo No 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 Ecco il primo gol Io la prendo non è che spazzo la mania di passarla E la passo molte volte all'avversario Iniziamo già 1-0 sotto Incredibile questa finale non me l'aspettavo così Non so cosa fare Non so cosa dire Non so cosa fare Non so cosa dire Perché? 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 Gliela devo passare Poi vabbè l'ha messa nell'angolino Ripartiamo È che quando mi metto a parlare mi concentro sempre meno E quindi è difficile Ma io voglio comunque portarvi questa coppa Per voi amichitos Andiamo dai Ehi No non ci ho creduto Non ci ho creduto Pensavo che non sarebbe mai passata con la palla Occhio Che se la r... Tienila lì Bravo Andiamo Ti Nella madò Torna Torna indietro Torna indietro Torna Eh ma questi sono velocissimi Ma che giocatori sono? No neanche Sì Fuorigioco No Alzata la bandierina Albitro Mamma mia mi sta facendo ballare lì Sì Bianchioso Andiamo Si riparte Mamma mia Bravo Bravo Qualcuno Ragazzi Dai Andiamo con Diffo E' nero Eccolo Parte manè 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 In velocità Manè Ancora dentro per Diffo Diffo davanti alla porta 1-1 Mamma mia Quei due piccoletti lì davanti Si intende in una maniera Pazzesca Siamo 1-1-1-1 Mamma mia Dai adesso dobbiamo fare anche il secondo Il terzo Il quarto Tutti quelli che riusciamo No Chiudilo Chiudilo Sì Dai Dagliela lì Ancora No 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 Ste cose Uff Olevas Dagliela Olevas Bravo Ancora Che mi invitano i miei colleghi Eccolo Bravo Dagliela Fuorigioco Ah Ah Che dolore Dolore assurdo il fuorigioco No 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 Rientriamo Rientriamo Rientrare Lunga Volevo Volevo dirvi ragazzi Che Non so se avete visto Perché Youtube Non so come Cioè Quali sono i parametri Che usa per Dare le notificazioni Ho caricato L'ultimo video Ovviamente Prima di questo Di Fallout Delle scene Diciamo Più divertenti Che mi sono successo Durante La mia prima Giornata di Gioco Uh Uh Me la sto rischiando Me la sto rischiando Eccolo lì che parte però Rientra Bravo Ancora Lunghissima Occhio L'errore Tagliela Vai 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 Attenzione Mamma Barclay Mamma mia Nuovo acquisto Stava per fare Il 2 a 1 Cosa ci fa Howard Ogni tanto Che prendiamo Andiamo Mané Dai Sei un nano Cosa vuoi andare a battere di testa Guarda lì Fellaini 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 Dai Attenzione E' buona Larga Uff Che rischio Dai Ma cosa fai Chiudilo No 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 Contropiede no Contropiede no Contropiede Ok Ok ci siamo recuperati No Ma stiamo sbagliando Tutti i passaggi Ragazzi Sveglia 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 Comunque sia Sicuramente Ragazzi Penso che Il prossimo Video Sarà Por la primera Se riesco a trovare le partite Perché è veramente Allucinante E' allucinante E' allucinante Dai Ah 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 Ci stiamo facendo Chiudere Un'altra volta Non va bene Dobbiamo andare avanti E la madò Ma cosa fa il portiere Era così semplice No Guarda che mi fa Prendere gol Guarda Guarda che mi fa Prendere gol Aspettiamo 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 Lasciamo fare tutto Il nostro compagno Noi andiamo a chiudere Sui passaggi Oh Bravo 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 Sì Largala Ancora No Anderson Occhio che sbaglia Occhio che sbaglia Tieni una spallata Quello Dai Bravissimo Guardalo lì Largo Pum Vai nano Vai Uuu Muovettila Prende Muovettila Prende Teniamola qua Teniamola qua Se no ci facciamo chiudere Dai Freni Ai ai E la madò Sì Poi Uno a uno Ancora Trentottesimo Siamo Uno a uno Sono Molto nervoso Non si vede Uuu Attenzione Fa la sponda Uno a due Oh Uff Mamma mia Stavo andando Ma dai Ma dai L'avevo capito Dai 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 Ti qui Chiudi Chiudi Freni Bravissimo Ripartiamo Taglia la larga Ancora Vai man No man Tieni la Mamma mia man I love you man Uuu Uuu Ancora Tensione Freni Albitro Rigore Stavo tirando Stavo tirando Ma Ma fischi Per meno Di questo Ah Stavo tirando Freni Gestiscela tu Bravo Ancora Ancora Chiocchiamo Così col tiki Taka No Olebas Madonna Adesso Gliela riprendi Olebas Perché Me l'hai persa tu Sì Sì così Anderson Dagliela lì Ma lì davanti Cosa fai Ogni tanto Questi ragazzi Fellaini Chiude tutto Fine primo tempo Uno Uff E' tese E' tesa la partita Uno Eeeh Se ne va con l'elastico Così Quelle l'elastico Io sono uno che fa Poche 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 Skill Cioè proprio Diciamo che Uh Diciamo che le uso Quando ci vuole Attenzione parte Manè E' la nero Manè 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 Anco No Manè Ti ho detto di rientrare Mannaggia te Manè Mannaggia te Manè Vai Chiudilo Rientriamo Rientriamo Con centrocampisti Andiamo a Far corpo qua In centrocampo Ok Deve rifare la manovra Da capo Vai bravo Ancora Ancora Uh Rimane libero Ancora Tagliela Dai Diffo Girala subito Santa peperina Occhio Occhio Lagga un po' Adesso Perché deve laggare Quella Madonna Chi è quello Chiudilo Chiudilo Ci ubriaca Con le finte Chiudilo Ah Dio Sto soffrendo Ti prego Nano Fellaini Fai qualcosa Ti prego Fellaini Fellaini Ti prego Ufff No Non fare uscire I centrali Perché Escono I centrali Howard La fa sua Ripartiamo Adesso Un contropiede Ma ce l'avevi Lì C'è Bravo Nano Diffo I love you Diffo Fellaini Fernandinho Ancora Per Fellaini La sbaglia Ma fa niente Vediamo Incivola Uff Uff Guarda che la sbaglia Guarda che la sbaglia Sì lo sapevo Lo sapevo Vai Fellaini Insisti Ancora Qualcuno Eccolo Bravo Fellainino È stato bravo Comunque Ripartiamo A riprendere La palla Dai Comunque ragazzi Volevo ringraziarvi Intanto già che ci sono Mi piace ringraziarvi Perché comunque Siete troppo grandi Per i commenti E anche Perché siamo arrivati A 2400 Qualcosa Attenzione Davanti alla Porta Fellaini Perché Fellaini C'avevi di Barclay No 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 Potevamo fare Il 2 a 1 Potevamo Assolutamente Segnare Il 2 a 1 Sì guarda te Svaglia E li ritorna Sui piedi Quella palla Incredibile Sì Sì vabbè Adesso fischi il fallo No Santo cielo Occhio che la passa Io so che la passa No invece No Uuh Mamma mia Calcio d'angolo Ero convinto Che la passava Giuro Howard Con calma Con calma Gestisce Lì Bravo Hai subito Così Bravissimo Vedi che Ci capiamo al volo Adesso parte lui E la madò E la madò Come Ma avevo io La palla Ma lasciala Continuare Allora Cerchiamo di fare Una roba Tipo del genere Boom Mamma Se facevo il gol Mamma Se facevo un gol Così Con il nano Di fo' di testa Sta laggando un pochino Siamo 1 a 1 Settantesimo Ok l'errore Vai vai Presta subito Presta subito Vai 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 Prestiamo Prestiamo Madò Se se la sta rischiando Questo Eccolo Sì Sì Eccolo lì dentro Permane Mane 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 No 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 È andato a vuoto Dai L'avevo visto Tua 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 Bravissimo Tienila lì Prestiamo sto pallone Santo cielo Feleni Io ti picchio Io ti picchio Ce l'hai lì largo Bravissimo Vai Mane Vai Mane Vai Mane Mane Lagga Lagga Perché deve laggare Mentre ho io la palla Si capisce più niente Quando lagga No 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 Dai Iniziato a laggare Perché devi iniziare a laggare Perché Vediamo se si calma il lag Perché tutto ad un tratto È iniziato a laggare Come non mai Eccolo qua Girato Tieni Tieni Ma perché deve fare sto passaggio Feleni Chiudete Chiudete Santo Madò Via Ti prego Bravissimo Vai Vai Diffo Vai Diffo No No L'ha presa L'ha presa Incredibile È incredibile Come l'ha presa Non lo sa neanche lui Aia Vai Feleni A chiudere Ce la facciamo a chiudere Bravi Dai Ce l'hai lì E lagga E lagga E mo mi sto nervosendo E quando mi nervosisco Prendo sempre gol Ma perché deve laggare Perché Ce l'hai lì Ancora Eccolo qui Mamma mia È partita adesso Mané 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 In velocità Mané 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 All'85 Mané Super Mané Tu ha uno Mamma mia Ma quanto corre Quello lì Quanto corre Fermatelo Fermatelo Posso respirare un pochino Ma non tanto Perché Si smancano ancora 5 minuti Dai 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 Grande Parkle Comunque Avete ragione È bagattissimo Soprattutto Gestisce bene il pallone Lì E ha messo un filtrante Stradinario Che se non riusciamo a chiudere Però Chiudiamolo Via Ancora Dagliela Bravissimo Adesso parte Difo Tienila No Tienila Bufo Tienilo Difo Tienilo Dai Tu ha No Bravo Mettici il fisico Ma chi se ne frega Occhio che la può passare qui Rimaniamo qui Tu rientra Che a barca Ti sei infortunato Occhio Dai Ripartiamo Ancora È infortunato Barclay E la madò È un macellaio Albitro Un macellaio Quello Finisce Finisce ragazzi Fatemi vedere i festeggiamenti E vinciamo questa coppa La Movember Cup Movember Movember Cup Non so perché non hanno messo novembre O november Non hanno messo movember cup Ma fa niente Abbiamo vinto ragazzi Io direi che per oggi è tutto ragazzi Spero che vi siate divertiti In questi minuti Vi invito ragazzi a lasciare un pollice in su E mettere il video tra i preferiti Perché mi aiutate veramente tanto a crescere qua su youtube E ti ricordo che se è la prima volta che mi stai guardando ti puoi iscrivere al canale Noi ci vediamo quindi al prossimo video Sperando che sia per la primera Fate sempre i bravi Ciao ragazzi